Ehi Gio. Ehi Stè, stavo vedendo la partita e Mario ha cambiato canale. Ma chi comanda sul divano, l'uomo o la donna? Gio, sul divano c'è parità di genere. Ma in che senso? Ora te lo spiego. Chi comanda sul divano, l'uomo o la donna? Sul divano comanda l'uomo, come dice il mio amico Giovanni Mandala. A differenza del passato, la donna piano piano si è conquistata il suo spazio nella casa, così come Roma ha conquistato il suo impero, lei cominciando dalla cucina, passando per il bagno fino ad arrivare sul divano. Ora c'è una cosa che si può fare. Decidere di lasciare lo spazio alla donna sul divano, lasciarle la possibilità di decidere quale programma vedere o entrare in guerra. Il mio amico Giovanni Mandala ha deciso per la guerra. Giova, lascia stare, lasciagli il divano a tua moglie. Mai! Non sarà mai! Almeno il divano deve essere mio. E così per anni hanno avuto questa causa. Ma dopo anni, con mio grande stupore, devo dire che ha vinto il mio amico Giovanni Mandala. Ho detto Giova, come hai fatto a vincere? Io sono arrivato in tribunale, il giudice mi guardava, ero teso, ha preso la sentenza ed è stato chiaro. Ha detto, signor Mandala, lei ha vinto, il divano è suo. L'importante è che sua moglie gli lascia la casa. Cos'è il divano? Il divano è un luogo sacro, custodisce i segreti della famiglia. Nei divani antichi puoi trovare anche reperti storici. Tra i cuscini trovi pandistelle, popcorn che hanno visto il Titanic, monete da 200 lire. È sempre stato una sorta di triangolo delle bermuda. Tutto quello che passa da lì, sparisce. Ricordo una volta che è entrato un bambino del mio palazzo a casa mia, è salito sul divano, è sparito per 15 giorni. Poi mia madre ha pulito il divano e l'ha giocato tra i cuscini. Era riuscita a sopravvivere mangiando pandistelle e popcorn. Oh, e se fu tiupro qualche 10.000 lire a monete di 200 lire. Chi comanda sul divano? L'uomo o la donna? Una cosa è certa, una donna sul divano non ti dà fastidio, anzi è bella da vedere, sembra una venere distesa, ma l'uomo, l'uomo a guardarlo sul divano dà l'impressione di essere uno scansa fatiche, per capirci, o lagnoso. Infatti una donna che vede l'uomo sul divano gli dice allora ti devi alzare, non puoi stare sempre sul divano, ti vengono i dolori. E lui, oh, sono andato in palestra e mi hanno fatto male polpaccio, sono andato in bici e sono caduto, sono andato in piscina e mi è venuta la sinusite. Io sul divano non mi sono fatto mai niente. Chi comanda sul divano? L'uomo o la donna? La donna sul divano ci guarda le serie, l'uomo sul divano si fa una serie di mangiate, però attenzione, non è vero che l'uomo non faccia sport sul divano. Conosco uomini che sul divano, insieme alla propria squadra del cuore, giocano ogni due giorni tra coppa e campionato. Infatti quando la loro squadra perde, loro esclamano una frase che rivela il reale coinvolgimento e dicono abbiamo perso perché eravamo troppo stanchi. Oh, loro si sentono stanchi come la squadra. Chi comanda sul divano? L'uomo o la donna? Non lo sappiamo, sicuramente è un grande campo di battaglia e il vincitore avrà come premio di poter guardare il suo programma preferito. E se Beautiful è seguito dalla donna, la politica è seguita dall'uomo. E se i film d'amore sono seguiti dalla donna, il calcio è seguito dall'uomo. Ma attenzione, perché se uomini e donne è seguito dalle donne, c'è posta per te. È seguito anche dagli uomini. Quindi, chi comanda sul divano? L'uomo o la donna? Sul divano c'è parità di genere, perché sul divano comanda Maria De Filippi. E quindi, perché c'è parità di genere? Non ho capito. Chi comanda sul divano? L'uomo o la donna? Gio, c'è parità di genere perché sul divano comanda Maria De Filippi. Perché? Facile, perché è una voce da uomo e non corpo da donna.